Succede qualcosa di strano nella conferenza di servizi di Etra, che è composta dai comuni soci della Multi Utility e definisce le linee di azione della società. Per capire cosa succede di strano però bisogna partire dall'insediamento dell'attuale conferenza di servizi, convocata per il 2 dicembre del 2019 a Cittadella dal sindaco di Bassano de Grappa Elena Pavan, quale rappresentante del socio con la maggiore quota di partecipazioni in Etra. Nel verbale di quella riunione risulta il primo punto dell'ordine del giorno la designazione dei componenti del consiglio di sorveglianza di Etra in sostituzione di tre consiglieri uscenti. Dopo le discussioni del caso vengono effettuate le votazioni e il presidente, sempre il sindaco Elena Pavan, dichiara chiusa la seduta. Tutto bene direte voi, riunione ineccepibile, ci vediamo più avanti. Invece no perché è proprio qui che sorgono i dubbi. Andando a scartabellare il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi, vediamo infatti due punti di grande importanza che potrebbero cambiare decisamente luce alla faccenda. Punto 1, l'articolo 4 del regolamento dice che la conferenza di servizi è convocata in occasione della seduta di insediamento dal sindaco del comune che presenta il maggior numero di abitanti serviti da Etra, ovvero Bassano del Grappa. Punto 2, l'articolo 5 del regolamento dice che la conferenza nomina fra i propri componenti il presidente. Peccato che nel verbale del 2 dicembre 2019 non risulti alcun punto all'ordine del giorno per la nomina o l'elezione del presidente. Semplicemente non se ne è parlato, neanche per acclamazione e nemmeno nelle convocazioni successive vi è traccia del punto relativo alla nomina del presidente della conferenza di servizi di Etra. E qui iniziano le domande perché in situazioni simili a usanza che chi convoca per legge una seduta o una riunione lasci poi lo scranno al presidente eletto. Ci chiediamo e non siamo i soli, possiamo assicurarvelo, se il fatto che non sia stato nominato o eletto un presidente possa inficiare o rendere nulli i provvedimenti successivi del presidente non eletto, tipo la convocazione della conferenza di servizi o altre convocazioni più recenti. Ma soprattutto tutto questo potrebbe esporre a ricorsi le deliberazioni della conferenza a presidenza Pavan con grave rischio per la società pubblica. E chiediamo ai sindaci di Etra se fossero a conoscenza di questa dinamica e se siano d'accordo con quanto è accaduto. Noi chiediamo, le carte parlano, stavolta qualcuno dovrà rispondere.